buonasera e benvenuti al secondo incontro della rassegna fai rete con i piccoli musei dell'oltrepo mantovano una rassegna portata avanti dai volontari del gruppo fai giovani di mantua insieme a noi questa sera infatti francesco e gabriele hanno l'onore e il piacere di presentare il museo civico archeologico di pegognaga insieme alla curatrice la conservatrice del museo la dottoressa benedetti daniela buonasera 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 prego allora parto io e la prima domanda che volevamo fare è una domanda molto semplice ci chiedevamo come nasce questo museo archeologico di pegognaga allora il museo archeologico di pegognaga nasce agli inizi degli anni 90 del secolo scorso e nasce per ospitare una donazione la famiglia bonatti nizzoli infatti donò dei reperti di epoca romana al comune di pegognaga quindi l'istituzione del museo in realtà è relativamente recente però al suo interno la storia del museo è molto più articolata e anche più interessante perché la famiglia dei donatori è in realtà la famiglia erede del primo sindaco di pegognaga che si chiamava alessandro nizzoli fu lui a capire insieme al fratello achille nella seconda metà dell'ottocento che i reperti che venivano alla luce a pegognaga erano degni di considerazione e quindi iniziò a raccogliere questi manufatti che venivano alla luce nella zona di san lorenzo quindi la zona che attualmente è appena fuori dal paese di pegognaga e quindi i reperti che prima erano praticamente completamente distrutti o dispersi cominciarono ad essere raccolti e in seguito appunto confluirono nel patrimonio che appartiene al comune di pegognaga che è visibile nel museo archeologico ecco tra i numerosi reperti che appunto vi si conservano ce n'è uno in particolare che destra sicuramente grande curiosità e che riporta anche una una speciale iscrizione ecco di che cosa si tratta si si tratta in effetti del reperto più importante e più famoso del museo tant'è che spesso ci viene chiesto per mostre temporane attualmente ad esempio il capitello non è al museo archeologico di pegognaga perché è in una mostra nel palazzo ducale di redere dedicata all'oltrepo mantovano in epoca romana si tratta di un oggetto decisamente interessante adesso se chiara può condividere l'immagine del dell'oggetto in modo che anche chi non è mai stato appunto a pegognaga si può rendere conto di che cosa si tratta è un capitello di pietra di arenaria in particolare che è importante proprio perché reca questa iscrizione sono due parole separate da un piccolissimo segno triangolare padopatri che significa al padre po quindi è una dedica al fiume po che i romani chiamavano padus ed è una testimonianza molto interessante perché di fatto ad oggi è l'unica testimonianza epigrafica del culto del fiume po in epoca romana diciamo che nel mondo antico le sorgenti le fonti i corsi d'acqua i laghi erano comunque posti sotto la protezione di divinità e a molte volte si identificavano addirittura con esse quindi abbiamo testimonianze di culto anche di altri fiumi ad esempio dei grandi fiumi europei come il reno il danubio oppure l'isonzo o il sarno in in italia in questo caso il po viene definito pater quindi viene chiamato come padre che è un diciamo un epiteto che spesso usavano gli antichi nei confronti delle divinità e che troviamo anche utilizzato proprio per altri fiumi il reno che ho già citato ma anche il pater tiberinus quindi il dio legato al fiume tevere che veniva chiamato il pater omnium aquarum quindi il padre di tutte le acque probabilmente la scelta di chiamare il fiume padre ha un legame con la capacità fecondatrice del fiume con diciamo la ricchezza e la prosperità che il fiume portava noi sappiamo che i fiumi erano fondamentali chiaramente nel mondo antico per l'agricoltura per l'allevamento e sappiamo che sin dalla preistoria l'uomo ha scelto proprio le aree vicino ai corsi d'acqua per stabilirsi siamo meno abituati a pensare al fiume come un elemento di prosperità per il commercio perché i fiumi erano una strada fondamentale per permettere il trasporto delle merci e delle persone quindi i territori che si trovavano diciamo in prossimità dei fiumi godevano di maggiori benefici perché avevano una prosperità per l'attività commerciale produttive e erano anche i territori che spesso eh potevano avere vantaggi anche per quanto riguarda le innovazioni perché attraverso i fiumi scorrevano anche le idee ora un un elemento non da poco che non sfuggirà a chi conosce l'ultrepo mantovano è che in realtà il paese di pegognaga non è eh diciamo non si trova vicino alle sponde del fiume po quindi abbiamo una testimonianza del culto del fiume in una zona dove il fiume attualmente non scorre perché effettivamente il paesaggio è molto cambiato quindi eh in età romana il corso del fiume seguiva un percorso eh più meridional rispetto all'attuale e quindi eh diciamo mh nei pressi del dell'odierno abitato di Luzzara seguiva un percorso a meandro che andava a toccare l'area di san lorenzo di pegognaga e che oggi si può mh ancora riconoscere nello scolo che si chiama non a caso po vecchio eh noi non sappiamo in realtà come fosse organizzato questo luogo di culto cioè il capitello è stato trovato nella seconda metà dell'ottocento mh non abbiamo idea eh se in questo luogo esistesse un vero e proprio saccello quindi un piccolo santuario se il capitello fosse posizionato su un'alta colonna se invece fosse in basso mh sopra il capitello ci sono dei fori eh che dovrebbero essere funzionali all'alloggiamento di qualche eh diciamo qualche manufatto che poteva essere in in bronzo o in pietra ma che è andato completamente perduto. Ehm vorrei ricordare un ultimo elemento interessante a proposito del capitello e ne approfitterai per vedere l'immagine seguente. Ecco come dicevo il capitello mh è stato trovato nella seconda metà dell'ottocento ehm poche pochi anni dopo il suo rinvenimento del tutto casuale eh pegognaga divenne comune autonomo perché fino al 1877 era una frazione del comune di Gonzaga eh fu proprio Alessandro Nizzoli che scelse il capitello e il padus come simbolo per lo stemma del comune eh nell'archivio di stato di Mantova si conservano gli stemmi ottocenteschi quindi i primi prototipi diciamo fatti realizzare dal Nizzoli eh nel corso del tempo eh il lo stemma ovviamente ha subito rifacimenti e ammodernamenti ma come vedete questo è lo stemma attualmente utilizzato dal comune eh campeggia ancora il nostro capitello e vicino eh la personificazione del fiume che nel mondo antico ehm quando viene raffigurato con sembianze umane è un uomo in genere con la barba che spesso viene rappresentato un semidisteso vicino ad un'anfora o comunque a un vaso da cui sborga l'acqua e spesso che hanno a che fare appunto col fiume e con la navigazione come in questo caso appunto il remo legato proprio alla navigabilità del fiume Po. Perfetto grazie è veramente un discursus interessante su questo gioiello diciamo il fiore all'occhiello del museo che vedo anche che è molto gettonato perché ve lo chiedono spesso in giro no? Come come ci ha detto e quindi ci chiedevamo oltre quello quali possono essere gli altri reperti che ben ci raccontano quella che era la quotidianità degli abitanti del vicus che prende il nome dell'attuale begognaria. Sì nel museo sono costruiti diversi reperti che ci raccontano appunto la storia di questo piccolo centro che quindi eh godeva di una certa prosperità perché come abbiamo detto si trovava sul Po eh grosso modo a metà strada fra due porti molto importanti eh Brixellum che è l'attuale Brescello e Hostilia che è l'attuale Hostilia. Quindi eh con un comodo approdo diciamo sul fiume e probabilmente questo accadeva nel mondo romano il vicus sorse proprio eh dove si incrociavano e quindi si potevano integrare la via fluviale con le vie terrestri e quindi probabilmente qui sorgeva anche passava una strada in direzione sud a Modena con Mantua e un'altra strada che correva al Po e quindi diciamo grosso modo in direzione est ovest. Eh nel museo possiamo vedere eh io direi di partire proprio dagli oggetti legati al commercio e possiamo vedere eh la prossima immagine eh osservare quelli che sono forse tra i reperti più legati al commercio eh perché sono le anfore quindi eh questi sono i classici contenitori da trasporto per derrate alimentari quindi servivano soprattutto per eh eh l'olio eh il vino eh il vino e il grano sono dei contenitori con una invocatura stretta un corpo abbastanza ampio e capace e eh il fondo rappresentato da un puntale questo perché eh era una forma che favoriva eh che garantiva la possibilità di impilare le anfore le une sulle altre perché dovevano riempire le stive delle navi. Quindi eh potevano essere eh collocate nelle stive delle grandi navi che soltavano il Mediterraneo e poi una volta arrivati ai porti eh venivano mh trasportate eh spostate in imbarcazioni eh più piccole adatte alla navigazione fluviale e attraverso questo appunto potevano raggiungere le diverse località dell'entroterra. Eh quelle che vediamo mh nel museo di Tegognaga ad esempio sono delle anfore iberiche quindi che vengono dalla penisola iberica da dove eh molto probabilmente eh importavano eh le salse di pesce eh il garum è la salsa più famosa era un prodotto di cui i romani andavano molto biotti e quella prodotta appunto nell'attuale Spagna e Portogallo era eh considerata la salsa di pesce di eh migliore qualità diciamo. Eh a volte abbiamo eh delle informazioni ancora più eh dettagliate e quindi nella prossima immagine possiamo vedere eh due dei numerosi frammenti di anfora eh visibili in il museo e attraverso i bolli eh gli archeologi riescono anche a ehm ricostruire in parte proprio i flussi commerciali eh del dell'antichità. Eh quindi ad esempio questi bolli ci testimoniano che a Tegognaga arrivarono delle anfore eh firmate eh da eh 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 le cannius bassus che era eh un produttore eh di olio eh nell'attuale Istria eh oppure eh eh le anfore firmate da eh 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 Gull Poli eh che era un produttore di vino del Piceno quindi delle attuali eh Marche. Quindi sono mh davvero delle testimonianze molto concrete eh di un mondo che era molto mh vivace e e quindi anche molto eh ricco dal punto di vista economico. E il benessere di alcune abitazioni del dell'antico Vipus è testimoniato proprio dai rinvenimenti che sono eh esposti in museo. Eh nella immagine seguente ad esempio eh possiamo vedere uno dei eh degli oggetti di arredo ehm si tratta di un eh diciamo di di un piano di un tavolino che vedete a forma circolare eh un tavolino di pietra eh che aveva un sostegno eh molto lavorato canalato e quindi eh fa parte appunto di un dell'arredo di case di un certo eh benessere ecco economico ehm e eh venivano utilizzati questi tavolini come sostegni per eh vasi piccoli vasi oppure per lucerne. Eh le lucerne sono eh lo vediamo nel nell'immagine seguente sono eh gli oggetti eh legati all'illuminazione e quindi erano delle lampade eh ad olio eh venivano prodotti in grandissima quantità nel mondo antico perché come bene immaginate per illuminare eh un'abitazione dovevano utilizzare numerose lucerne perché non fanno una luce particolarmente potente. Eh chiaramente con il passare del tempo le lucerne eh cambiano anche eh di forma eh di di ehm di decorazione perché seguono le mode del momento eh e in questo caso abbiamo eh una delle delle più ehm piacevoli da vedere il museo e sulla lucerna compare la raffigurazione di un gladiatore eh sapete che i gladiatori erano eh delle figure estremamente amate nel nel mondo antico e quindi spesso vengono rappresentati proprio su oggetti di uso quotidiano quindi eh vediamo questo eh gladiatore a sorso nudo con eh l'elmo, lo scudo e nella nell'altra mano portava il la spada appunto pronto per combattere eh nell'arena. Eh nel museo troviamo tantissimi oggetti legati proprio alla quotidianità eh se vediamo l'immagine seguente eh ecco possiamo vedere due esempi eh della ceramica da mensa così eh viene definita dagli archeologi cioè eh quella ceramica più bella eh che era proprio destinata ad essere portata a tavola per servire cibi e bevande chiaramente come in questo caso dove abbiamo eh una sorta di una brocca potremmo possiamo definirla e eh e un bicchiere. Ehm è chiaro che eh eh trattandosi di una collezione ottocentesca eh i manufatti che sono stati raccolti eh sono stati scelti secondo un criterio che non è scientifico come si fa negli scavi eh che attualmente si svolgono eh ma è stata scelta molto probabilmente seguendo dei criteri puramente estetici ecco l'interesse del di chi ha trovato eh i reperti e li ha considerati meritevoli ecco di attenzione. Eh nell'immagine seguente vediamo eh altri eh reperti che ci parlano della vita domestica e in particolar modo questo è una parte eh di una macina a mano quindi si tratta ovviamente di un oggetto legato alla produzione di farina eh appunto domestica perché è una produzione eh diciamo sostanzialmente destinata al fabbisogno diciamo eh della famiglia. Così come eh un oggetto molto molto diffuso eh e molto frequentemente rinvenuto negli scavi è quello che vediamo eh in questa immagine si tratta dei pesi da telaio. Eh in tutte le case romane sostanzialmente esistevano i telai che servivano ovviamente appunto per tessere cioè per produrre eh stoffe e tessuti. Eh il telaio è una struttura linea di cui naturalmente noi non troviamo nulla eh quello che vedete è ovviamente una riproduzione moderna che è stata collocata in museo. Eh ciò che trovano gli archeologi sono i pesi che sono realizzati in terracotta e che servivano proprio a mantenere in tensione i fili verticali quindi eh i fili che costituivano una parte del tessuto e poi con una spoletta o una navetta si passava i fili orizzontali e unendoli eh con un pettine uno strumento di legno eh si otteneva per l'appunto il tessuto. Eh sono molto frequenti come detto proprio perché eh di fatto ogni eh donna romana eh anche le matrone eh si dedicava probabilmente a questa eh attività che veniva considerata tipica della donna virtuosa diciamo così. Eh ma poi ancora troviamo eh altri oggetti anche molti. Ah se posso interromperti quindi questi qua sulla destra sono i poi i pesetti che ci sono gli appesi un ingrandimento. Quelli sono proprio i pesi romani eh quelli che vedete sono quelli in vetrina. Eh invece dove c'è il telaio di legno sono ovviamente delle riproduzioni moderne eh per per vedere il funzionamento appunto del del telaio. Ma e avevano anche dimensioni diverse quindi? Potevano avere anche diverse dimensioni probabilmente eh eh le dimensioni erano legate anche al numero di fili che venivano attaccati perché è chiaro che sono oggetti eh piuttosto pesanti, sono in terra cotta eh e quindi non dobbiamo immaginare che ogni ad ogni peso fosse attaccato un filo solo. Si facevano dei gruppi eh di fili eh e eh venivano appunto tenuti eh legati eh con con questi pesi. In realtà il peso da telaio è uno degli oggetti eh che caratterizza eh tutta l'antichità quindi anche di epoche preistoriche. Con il passare del tempo diciamo che cambia un po' la forma. Eh la forma tipicamente romana del peso è quello che vedete un po' tronco piramidale diciamo così eh con un foro passante nella parte più più stretta. Eh venivano realizzati a stampo e a volte come in alcuni esempi di eh di Pegognaga hanno anche delle decorazioni diciamo che arretiscono la superficie. Grazie. E quanto tempo ci voleva per realizzare un manufatto del genere? Credo che fosse parecchio impegnativo realizzare, intrecciare. Realizzare il tessuto? Ma ehm naturalmente eh dipende dalla eh ovviamente sia dal tipo di prodotto che si voleva realizzare perché eh quando pensiamo alle stoffe noi naturalmente siamo portati a immaginare sempre i vestiti che fosse eh appunto un ehm eh diciamo un riflesso incondizionato. Però in realtà le le stoffe servivano eh per fare i pantelli, le tovaglie, eh i tappeti, le tende eh per coprire i cuscini. Quindi in realtà c'era un grandissimo bisogno di stoffe che potevano essere anche ovviamente di materiali differenti eh di dimensioni differenti e anche potevano richiedere delle eh lavorazioni più o meno accurate perché eh chiaramente se io devo fare una stoffa monocroma tutta uguale magari un po' grezza ovviamente eh la produzione è molto più rapida. Nel momento in cui invece voglio realizzare una stoffa eh con più colori, con motivi decorativi, anche complessi perché già nel tempo e nella preistoria eh l'uomo ha imparato a realizzare appunto eh delle stoffe decorate e vivacemente colorate, è chiaro che allora il processo di lavorazione diventa molto più lungo. Ehm io ricordo sempre però quello che eh mi hanno eh detto dei eh colleghi archeologi molto più grandi di me quando ero giovane e mi dicevano dobbiamo cambiare paradigma perché quello che non mancava al mondo antico eh e che invece manca a noi era il tempo e quindi avevano un approccio completamente diverso diciamo a a certe attività ecco soprattutto se si tratta appunto di attività eh con una destinazione domestico familiare e non invece produttiva artigianale come invece altre nel mondo antico. Grazie molto interessante la la sua questo intervento finale proprio veramente ottimo grazie. Ci mancherebbe. Ecco abbiamo poche altre immagini credo eh da da vedere eh per darvi anche eh l'idea che eh nel museo si trovano anche oggetti eh di diverse eh materie eh fino ad ora abbiamo quasi esclusivamente visto eh oggetti eh realizzati in argilla ma chiaramente ci sono i metalli eh in particolar modo potete vedere delle chiavi eh che sono molto frequenti nel mondo antico perché chiaramente servivano per chiudere le porte eh ma anche per eh poter tenere diciamo custodire eh oggetti di varia natura che venivano collocati all'interno di casse o cassette eh il proprietario voleva mantenere appunto eh il eh i beni custoditi in in questi eh armadi o in questi immobili diciamo così eh al sicuro. Eh dall'altra parte vediamo invece dei pesi eh quelli più chiari sono in piombo eh quello invece di colore verdastro è in bronzo eh i pesi chiaramente in questo caso sono destinati alle bilance quindi sono pesi eh più vicini al nostro eh al nostro immaginario e servivano eh ovviamente eh per tutte le operazioni che richiedevano eh appunto la valutazione di un peso di una sostanza quindi sia eh ovviamente il commercio ma anche la realizzazione di mh ricette di di qualunque natura quindi sia in ambito alimentare anche per produrre eh anche per produrre eh altre sostanze per produrre farmaci ad esempio eh o quant'altro quindi eh all'interno appunto del museo si trovano eh moltissimi oggetti di di uso quotidiano eh e che ci raccontano eh come giocavano i i romani come si abbigliavano eh quali eh erano eh i manufatti che diciamo che eh utilizzavano all'interno delle loro abitazioni. Ecco e diciamo oltre alla ehm apertura ordinaria del del museo eh di archeologico di Pegoñaga quali altre ehm diciamo attività eh propone eh appunto il museo? Ma ehm intanto mh tradizionalmente come ehm fanno tutti i musei diciamo eh il museo offre alle scuole la possibilità di mh svolgere delle attività didattiche e quindi mh percorsi tematici eh a volte accompagnati da momenti lavoratoriali quindi eh naturalmente essendo un museo eh con una collezione romana il nostro interlocutore privilegiato è costituito dalla scuola primaria ma abbiamo proposto anche attività alla scuola dell'infanzia o alla secondaria inferiore. Ehm poi eh spesso mh ci sono sono proposti degli eventi per adulti eh le classiche conferenze di archeologia eh oppure degli eventi per famiglie eh molto spesso mh il museo mh ha inserito la propria programmazione all'interno del eh diciamo dell'offerta del centro culturale Lidia Bottardi Milani eh che rappresenta appunto eh il il centro di 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 Pegognaga all'interno eh del quale è ospitato il museo. Quindi di volta in volta vengono scelte delle tematiche che fungono da filo conduttore per eh eventi destinate alle famiglie, laboratori eh mostre eh letture. Tutto questo naturalmente eh diciamo nel nel momento in cui era possibile fruire del museo in presenza. Chiaramente eh negli ultimi mesi come tutti i luoghi di cultura ovviamente abbiamo avuto la necessità di eh trovare nuove soluzioni. Quindi per questo anno scolastico ad esempio l'attività didattica viene svolta eh sostanzialmente a distanza quindi con incontri attraverso le piattaforme eh più utilizzate dalle scuole. Eh siamo riusciti a proporre per le giornate europee del patrimonio un'attività per famiglie che abbiamo eh dedicato all'arte millenare della cesteria eh ma ovviamente poi tutto questo al momento non è possibile eh più svolgerlo e quindi eh come tutti i luoghi di cultura abbiamo eh proposto dei contenuti digitali che sono stati eh poi eh resi pubblici in rete e quindi attraverso i canali eh social del del centro culturale, il canale YouTube, Facebook, eccetera. Bene eh in attesa i tempi migliori abbiamo capito che di cose da fare ce ne sono parecchie. Ehm e appunto aspettando aspettando e spiegando il pronto rilancio e come ipotizza un rilancio di queste attività dopo eh appunto la riapertura e che speriamo avvenga quanto prima ecco? Beh eh allora diciamo che io credo che la ripresa delle attività con la funzione a cui siamo abituati diciamo eh tradizionale sarà mh piuttosto graduale ecco sarà eh progressiva e e e lenta. Eh i musei locali come quello di Pego Niaga eh avranno probabilmente più facilità a riprendere ad esempio le attività didattiche eh io credo. Un po' perché eh è stato più facile mantenere i rapporti con le scuole del territorio e poi perché eh chiaramente essendo dei musei piccoli abbiamo meno problemi di gestione dei flussi eh non siamo legati al turismo scolastico di massa e quindi eh non abbiamo problemi di mobilità e quindi da questo punto di vista probabilmente sarà più facile ricominciare e riprendere le attività didattiche. ehm un po' complesso sarà magari ehm la ripresa degli eventi che comportano ehm la presenza del pubblico anche se appunto i musei piccoli eh hanno il vantaggio di ragionare sempre su numeri più limitati e quindi più gestibili da questo punto di vista. Io direi che ehm la 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 ripresa della frequentazione del museo è indispensabile perché il museo come del resto tutti i luoghi di cultura ha una ragione nel momento in cui viene vissuto. Quindi nel momento in cui è un luogo per la comunità è un luogo anche di socializzazione. Sarebbe bello riuscire a far tesoro di quello che abbiamo imparato per forza durante la pandemia. Quindi ad esempio riuscire a eh utilizzare il web quindi non eh utilizzarlo come una eh risorsa secondaria ma capace eh in eh che si può mettere in rete. Non sono alternativi alla alla visita, non si tratturano mai una eh visione del del reperto o dell'opera d'arte eh in presenza. Ma costituiscono effettivamente un eh un terreno in cui può essere molto molto utile forse nell'eventi obbligatorio imparare a muoversi ecco. Ecco grazie. E il turismo no? E i visitatori sono principalmente locali o viene qualcuno anche da fuori diciamo? ehm il pubblico ehm nei musei ehm locali come quello di Pegognaga è un pubblico prevalente territoriale e quindi è muovato appunto alla alla zona ehm forse ehm ehm riuscendo a presentare il territorio quindi più in generale con altre eh realtà ad esempio appunto del dell'oltrepo è possibile eh invogliare anche eh visitatori che vengono da territori più lontani eh turisti anche stranieri ad esempio a eh così venire a visitare anche musei piccoli o piccoli eh inserendoli all'interno ovviamente di una eh offerta più articolata diciamo e più accattivante per loro. Ecco l'archeologico di eh di Pegognaga ci mostra ecco in un certo senso un vero e proprio spaccato di di vita eh quotidiana eh di di ieri di un passato che eh grazie proprio anche a eh realtà come queste eh è possibile eh in un certo senso eh studiare e quasi quasi toccare con mano e a suo avviso ecco eh ecco eh quale un futuro ecco per eh questi questi piccoli musei che diciamo a livello cioè eh come dire eh questo che abbiamo appena eh appena visto insieme ci ci permette proprio di 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 vedere come non ci sia bisogno di fare eh tanti chilometri ecco per per visitarne uno insomma che presenta ecco un eh un un repertorio notevole ecco sì eh la domanda è di grande attualità perché in effetti mh è la domanda che ci facciamo eh tutti noi che lavoriamo a vari livelli a vario titolo nei musei ed è di grande attualità perché eh i musei piccoli o piccoli costituiscono la stragrande maggioranza di musei italiani quindi è una peculiarità proprio del nostro territorio mentre in altre nazioni il patrimonio eh storico e archeologico artistico si concentra spesso in poche grandi istituzioni eh l'Italia tutti sanno è disseminata ehm di piccole realtà museali questo eh ovviamente testimonia la ricchezza del nostro patrimonio che conosciamo testimonia anche una certa vitalità può rappresentare degli elementi di criticità perché è chiaro che piccoli musei poche risorse e con che poche risorse in termini di ehm anche eh a livello di gestione di organizzazione allora io direi che mh una delle delle soluzioni che si ripetono sempre ma che effettivamente valide è quella di una ehm condivisione dei progetti e quindi che dire secondo me la eh appunto la soluzione è quella di di fare rete con altre istituzioni eh ma i musei piccoli hanno sicuramente un vantaggio che è quello di eh avere forse una maggiore mh capacità e potenzialità nella eh creazione di relazioni con il territorio perché eh possono essere solo eh il luogo dove si conserva il passato ma devono essere dei luoghi dove si vive il presente e in che modo anche si prefigura il futuro quindi eh proprio nell'intrecciare delle relazioni con con la propria comunità e con il proprio territorio probabilmente sarà la 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 svolta e la capacità di di sopravvivenza dei musei piccoli. Perfetto. Vi ringrazio tutti. Allora la nostra intervista termina qui. Ehm grazie dottoressa Benedetti, grazie Francesco e grazie Gabriele. Eh vi do appuntamento la settimana prossima con un altro museo, sempre il martedì sera e chiunque ci abbia seguito se vuole contribuire alle attività del FAI di Mantua vedete scorrere sovrimpressione il nostro IBAN per dare un contributo. Ancora grazie mille a tutti e spero che vi siate divertiti, che possa essere stata una bella serata. Grazie. Grazie a voi.